Radio Bruno Herman Metta, Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente e noi siamo pronti E' arrivato, benvenuto Ciao, ben trovati Ce l'hai fatto nonostante la neve e tutto quanto Insomma giornate difficili sulle strade Però sei qui e questa è la cosa più importante Il caffè te l'hanno offerto, generi di conforto Ok, io mostro a favore di telecamera Bello che tu abbia fatto il vinile A me piacciono molti i vinili Hanno un fascino loro Perché poi lo apri, a parte si sente un profumo Meraviglioso Un po' come con i libri Che hanno il loro profumo E poi per me che sono presbite I credits si leggono meglio Guarda che sono piccoli anche là Perché sono tanti Senti dai, sono arrivate tante domande Noi ci siamo portati avanti Abbiamo messo fieno in cascina Scrivetene ancora al 348 255 9999 Ce n'è una, lo dichiaro È di Maria, avevo detto La più bella la faccio passare per me Invece no, giusto dire che l'ha scritta lei Dice voleva chiedere se dovessi ricevere un invito per un duetto Da quale personaggio straniero ti piacerebbe? Con quale ti piacerebbe cantare? Ce l'hai la risposta? Home York, senza ombra di dubbio Beh, beh, beh Interessante, molto interessante Direi anche, visto che si parla tanto dell'Eurovision Song Contest Finalmente ci sarete Esatto State sistemando questa canzone? Farete qualcosa di particolare? No, in realtà no, perché la canzone ha una sua forma È nata così Non ci piaceva l'idea di cambiarne i contorni Anche dal punto di vista di testo, comunque di lingua Perché alcuni ci hanno chiesto se prevedevamo di fare una parte in inglese, eccetera Al massimo, per rispetto del paese in cui si va Bisognerebbe cantarla in portoghese È vero E non in inglese Però noi comunque la canteremo in italiano tutta Esattamente così com'è Bene Senti, io ho ascoltato con attenzione Proprio prima di andare in diretta il tuo disco Perché volevo che fosse a memoria fresca Io di solito faccio così Quando ci sono le interviste Lo ascolto prima Lo lascio decantare E poi un'ora prima me lo risento A me piacciono molto i testi Per me nella musica italiana è importante il testo Un po' come se fosse quasi un libro Per me è quasi letteratura Io la vivo così E la tua in modo particolare lo è Grazie Cosa ti auguri che emerga soprattutto dai tuoi testi? Cosa ti piacerebbe restasse di più al pubblico quando sente un tuo disco? Ma sai la cosa bella della musica è che ognuno gli dà un'interpretazione, no? E quindi non è tanto importante quello che io intendevo dire Ma è importante la traccia che lasciano le persone E le tracce che lasciano le canzoni sono personali Perché non possono avere la stessa valenza anche solo per due persone E quindi l'intenzione iniziale Alla fine è importante soltanto per scrivere Poi alla fine le canzoni diventano degli altri Non sono più di chi le scrive E nel momento in cui diventano degli altri Ognuno gli dà la propria rappresentazione Un po' come quando guardi un quadro, no? Certo Non sono più di chi ma un attore di teatro Anni fa gli chiesi questa cosa, no? Se c'era un messaggio particolare E lui disse proprio così Ogni spettatore dà una sua interpretazione Quando va a casa si porta via un pezzo in questo spettacolo Sì esatto Guarda le canzoni fanno questo Cioè ogni volta che nasce una canzone Un pezzettino dentro di me si stacca E va in giro per il mondo Ma chi ascolta quella canzone Non può prendere tutto quello che io ho scritto Ne prende un pezzettino E quindi ognuno ne prende un pezzettino diverso Ti chiedo Ermal Da quest'album c'è anche una canzone Che si intitola Caro Antonello Ah è vero Ma è dedicata proprio a quell'Antonello Venditti lì? Sì è una lettera diciamo Che io ho scritto ad Antonello Venditti È un modo per ringraziarlo Insomma delle sue canzoni E di tutta quella Tutto quell'immaginario Di quella poesia insomma Che lui ha fatto nascere Di cui è stato assolutamente un promotore Ed è una cosa che non mi ha lasciato indifferente Ma non sono l'unico a dirlo insomma Siamo in tanti Nasce proprio da una telefonata Insomma stavamo parlando perché siamo amici Gli stavo raccontando delle mie cose personali E lui ha detto Bene scrivimi una lettera Perché forse non aveva tempo Ma non è vero E là ho avuto l'idea Ho detto ma sai che Forse ha ragione lui Io ho scritto questa lettera Ero in macchina Ho accostato e ho scritto il testo della canzone Poi l'ho musicato dopo in seguito A proposito di testi Tu ti innamori anche della tua squadra Anche se perde Anche se non vince Non è la Juventus sicuramente Perché di solito vince la Juventus Ma è un concetto Non è qualcosa di legato particolare Ma perché lo dico? Perché siamo pronti per ascoltare un'altra traccia Direttamente da Non abbiamo armi E ci ascoltiamo Vuoi annunciarla tu? Certo Non abbiamo armi Io sono Ermalmeta E questa è Io mi innamoro ancora Su Radio Bruno Ermalmeta con Io mi innamoro ancora Su Radio Bruno Allora prosegue questo In store lunghissimo Folle di gente Com'è vederli Sentirli Abbracciarli Ma è una gran figata Devo dirti la verità È molto bello Perché proprio tocchi con mano L'affetto delle persone E poi quando fai questo lavoro La cosa più importante È la gente Perché se no Erano qui fuori sotto la neve Dalle due oggi pomeriggio Ti dico solo questo Incredibile Davvero incredibile Anche la volta scorsa Quando sono venuto qui C'era un sacco di gente fuori Però con la neve ho pensato Non sarà così E invece era di nuovo così Sono inondato E quasi quasi ci annego In tutto questo amore È bello Senti a proposito di gente Maria dice Ma per il prossimo strepitoso tour Sono previsti anche concerti In piccole location Teatri Piazze E non solo folle oceaniche Piccole location Non lo so Non so perché Vorrei sapere questo Ma forse Perché ama un ambiente più intimo Forse a questo giro Almeno fino a fine estate Non credo Dopo magari sì Ogni location Ha la sua magia Poi Dipende Alla fine il concerto Lo fanno le persone Non è che lo fa Chi è sul palco Come dicevamo prima Una parte sì Però La parte più bella È la gente che ti sta davanti Intanto il 28 aprile Ricordiamolo C'è questo grande appuntamento Al Mediolanum Forum di Asago Milano Quindi per vederti Non vedo l'ora E immagino Non vedo l'ora davvero L'impatto poi di quel posto lì Secondo me è anche Ma ci ho visto un sacco di concerti Lì Bravo come DJ Ma secondo me te la stai cavando benissimo Ci fermiamo Torniamo tra poco con Ermal Meta Qui su Radio Bruno Ermal Meta Ragazza Paradiso Nel nostro sabato poveriggio Qui su Radio Bruno Rieccoci Eccoci qua Aveva fatto una bella chiacchierata Fuori onda Sulla traduzione O meglio Su come possa nascere Il processo creativo Quando uno Anziché scrivere in italiano Magari lo fai in un'altra lingua Tu se non sbaglio L'hai fatto per Big Boy No? Sì sì Ho scritto per Sergio Però ecco Non puoi tradurre un testo Come ti dicevo prima Un testo va concepito in quella lingua Perché ogni lingua Ha un suono E anche il pensiero ha un suono Le due cose devono coincidere Quando immagini una cosa in una lingua E ha una musicalità E poi la traduci La stai praticamente La stai truffando Stai togliendo il 50% Hai detto una bella cosa prima fuori onda Tradurre un po' tradire O viceversa Sì Devi cercare di tradire il meno possibile Ma questo ha a che fare anche con Con la creatività Cioè che cosa è la musica La musica è una canzone che scrivi O è l'idea che hai Quando ti viene di getto di fare qualcosa Sì Immagina di essere così al buio Un lampo da lontano Illumina qualcosa Dura una frazione di secondo Tu hai visto un qualcosa da lontano Non sei sicuro di quello che hai visto Ma devi cercare di dargli una forma Il più velocemente possibile Ecco perché quando ti viene un'idea La devi buttare subito giù Quindi prendi la chitarra O ti siedi al pianoforte Come nel mio caso E cerchi di dar forma A quell'idea A quel lampo A quella cosa che hai visto Che quel lampo ha illuminato Allora la musica che cos'è È la traduzione che tu ne fai O è l'idea È quell'impulso originale E nel momento in cui fai passare Troppo tempo Tu stai necessariamente Tradendo quell'idea Perché la stai traducendo In qualche modo Quindi devi cercare di farlo Il prima possibile Immediato Deve essere immediato Deve essere immediato A proposito Ilaria scrive Dopo il mio tentativo di traduzione Dei brani La copia che mi hai firmato Durante uno dei tuoi appuntamenti Partirà per il Brasile Così anche il mio fratellino brasiliano Avrà un pezzo di te Bello Che carino Me la ricordo Ieri l'ho incontrato Questa ragazza Ci chiedono anche se leggi Le varie lettere che ti arrivano E che ti vengono consegnate Guarda Alcune sì E altre no Nel senso che serve tempo Perché se dovessi mettermi a leggere Tutte le lettere Mi servirebbe un mese di tempo È finita C'è più tempo per fare altro Lo faccio super volentieri Ma quando ho del tempo libero Perché insomma Sono tantissimissime A casa ho proprio una stanza Piena 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 di cose da leggere Non so più neanche dove metterle Ti hanno regalato qualcosa di particolare I fan Sì quadri Alcuni dipinti molto belli Oh tienili lì che non si sa mai Una chitarra fatta di legno Molto molto bella Un presepe una volta Ma dai un presepe Bellissimo È originale Ma sotto Natale oppure fuori stagione Prima di Natale Un sacco di regali Adesso ci sono i social Che accorciano molto lo spazio Poi i cartelloni Che non so più dove Vi prego Non portatemi più cartelloni Vi faccio un appello Non so più dove metterli Sono dei cartelloni enormi C'è uno spreco di carta incredibile Sappiate che un ramo muore Per fare quel cartellone Ci vuole Quelle cose Ditemele a voce Cerchiamo di essere ecologici Vi prego Anche perché ci vuole una parete molto grande Ma ti pare che gli attacco i cartelloni sulle pareti La mia casa diventerebbe un magazzino Sinceramente vorrei conservarla nella sua forma di casa E comunque vi prego Non regalatemi cartelloni Vi prego Se avete voglia di farmi un regalo Come l'ho detto anche l'altra volta Invece di spendere soldi per me Cosa che non mi va Perché già lo fate comprando i miei dischi Venendo ai miei concerti Fate delle piccole donazioni A un sacco di enti di beneficenza Eccetera Di chi si occupa di bambini Di persone con malattie particolari Io stesso sono testimone Della campagna del San Raffaele Sul diabete Che insomma È una malattia Che è la seconda causa di morte nel mondo In realtà Anche se non se ne parla tanto Però è proprio così Quindi Anche se fate delle piccole donazioni Anche da un euro Due euro Sono Insomma Tante gocce fanno il mare Senti ogni volta che viene un ospite A trovarci Scegli una canzone Quindi diventa un po' DJ Prima si parlava di questa cosa E mettersi eventualmente A Cosa hai scelto? Io ho scelto La Verità di Brunori Che è un artista Che stimo tantissimo E quella canzone Mi piace veramente Da pazzi E allora sentiamola Qui su Radio Bruno La Verità Brunori Sasse Su Radio Bruno Perfetto Brunori Su Radio Bruno Abbiamo chiuso il cerchio La scelta Scelta di Ermalmeta Che è nostro ospite Quest'oggi Che peccato Che siamo già in saluti Perché adesso che mi stavo divertendo Però aspetta Insomma C'è ancora una cosa Molto importante Assolutamente La spieghi tu Fabiana Allora noi ogni anno Proponiamo il Contro Festival Dopo una settimana Dal Festival di Sanremo Lo rifacciamo Infatti chiediamo agli ascoltatori Di votare La canzone preferita E quest'anno Hanno votato Per te Per Fabrizio Hai vinto ancora tu Hai vinto ancora tu Poteva andare meglio comunque Vabbè meglio di così E allora Noi consegniamo Questo premio Tu pensavi Tu pensavi Che quella scatola Fosse di cioccolatini E io ci speravo Ci speravo Lo so E tra l'altro Devo dire Le prime tre posizioni Hanno riconfermato L'ordine del Festival Vado così un po' Memoria Se non sbaglio È andata così Confermano anche Grazie mille Grazie a tutti coloro Che hanno votato Siete là Dove siete? Lì Ecco là Perfetto Hai visto Questo è un altro premio Da mettere sulla mensola Non è un cartellone Per fortuna No ma va bene anche i cartelloni Però non è morto un albero Ecco fai Esatto Fai come Woody Allen Che diceva Che ogni volta che gli danno un premio Lo consegna ai genitori E lo mette là Sulla mensola Devo dire che un sacco di premi Sono a casa di mia mamma Altri invece sono i mescal Nella mia casa discografica Diciamo che quelli un po' più carini Ho preferito tenermeli Carini a livello proprio di forma Beh bella cosa perché condividi con la squadra Ma certo Noi musicisti siamo dei calciatori Molti pensano che siamo tennisti Che giochiamo da soli Invece no Siamo dei calciatori Tra l'altro tu hai giocato con la nazionale cantanti Io gioco ancora con la nazionale Giochi ancora Devo recuperare No l'infortunio non c'è stato È stato passato Per fortuna Devo recuperare un po' di partite Perché ho avuto un po' da fare Ma è stata sfortunatissima Quella partita lì Si è fatto male subito Ma dopo 30 secondi Mi pareva una roba Ho detto ma no Ma non è possibile 30 secondi Una roba incredibile Ha freddo Ha freddo No è che uno mi ha fatto un'entrata Veramente brutta Cioè lui era già incazzato Io ero appena entrato E quindi Diciamo che la sua rabbia Ha vinto sulla mia Gioventù Perché lui era più grande La prossima volta Via Va bene A proposito di impegni Tanti impegni Quindi prosegue L'instortour Trovate tutti gli appuntamenti Anche sui social Sulle pagine ufficiali E poi ricordiamo Questo grande appuntamento E secondo me Sei già emozionato Per il 28 di aprile Ma guarda Sinceramente Ho lo stomaco Che mi si stringe già A pensare a tutta quella gente Perché Oramai siamo vicinissimi Al sold out Non so quante migliaia di persone Insomma Ci sono già acquistato il biglietto E la cosa Mi riempie davvero Di tantissimo orgoglio Ma non solo per me Per tutti quelli Che ci hanno creduto Che mi hanno sostenuto Sarà veramente la celebrazione Di un sogno Ecco Non sarà soltanto un concerto Perché Sognare insieme È una cosa molto bella Mi sono emozionata anch'io Ma lo so È dalle due oggi pomeriggio Che mi dice Sono emozionata Adesso è passata Dai Adesso ti puoi rilassare Oh no Erman Io la vedo Già rilassata Sì Ma i fan Sì Guarda L'abbiamo fatta a rossi Sì 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 Senti Ti lasciamo invece Ai fan Che sono qui fuori Sono qui ad aspettarti Video Foto Firme Autografi Insomma È il bello Dell'essere cantante Ecco Ma io Sono felicissimo Sono felicissimo Di tutto questo Grazie di avermi invitato qua È sempre bello venire qua Grazie del supporto Che mi avete dato dall'inizio Lo voglio dire pubblicamente Grazie Siete anche molto carini Con i fan Che stanno qua fuori Quindi Li abbiamo fatti entrare Perché c'era brutto tempo La vostra gentilezza è moltiplicata Sempre Grazie Erman Meta Vuoi dare l'ultimo annuncio Di un brano tuo? Certo Allora Il prossimo brano È la seconda traccia Del mio disco Non abbiamo armi Si chiama Dall'alba al tramonto Ma era il film di Tarantino? Era anche Dal tramonto all'alba Vedi Al contrario Ormai con gli anni Perdo i colpi Bellissimo Ti saluto E ti abbraccio Ciao 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 Grazie a tutti